Scegli un unico nemico, fallo diventare la fonte di tutti i tuoi mali, principio della semplificazione. Fai di tutta l'erba un fascio, un immigrato ha fatto del male, tutti gli immigrati sono violenti, principio del contagio. Trasforma ogni evento negativo in una minaccia grave, crea tensione, alimenta la paura, principio dell'esagerazione. Non mi dire che alcuni di questi principi ti suonano familiari, non siamo mica nel terzo Reich, mica sei scemo tu, non c'entri nulla tu con la massa che segue i suoi stessi aguzzini e si fa bindolare da una strategia propagandistica da quattro soldi. Giusto? Giusto?